bui 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 eh non ci arriverò mai eh che là figurati che noia sei noioso basta sì no eh vabbè che ci vuoi fare vieni tene qua vieni tene qua da dio splash splash vorrevi vorresti vorrebbe nuovo tempo verbale vorrebbe che schifo mi ricordo ancora quella volta quella sera in cui tia ti sconfissi due volte contro lo Sasori con per un pelo un HP che vi ha 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 Sì 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 Ha detto Sì 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 no drago c4 cazzo non mi curare va questo è già lì per sé una rottura di balle figuriamoci adesso che è a bordo di sto cacchio di drago aia 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 e appunto buonanotte la vedo dura niente qua sarà spammare e basta quando così a parte che sta fermo che sta facendo oh porco schifo oh merda what aia aia mi sta colpendo ma aia via via ah che cacchio di battaglia ma guardate se mi tocca spammare quanto mi dà fastidio no perché veramente io odio spammare l'odio veramente l'odio profondamente tanto anche nei picchiaduro a me non piace non piace basta con sti cazzoli cosi che due coglioni ma mi piglia per e basta al diavolo i tuoi piccioni oh le ecco il prossimo abbiamo finito vaffanculo tu e quel drago di merda il discepolo che barba una roba del genere ma come si fa e si vedono le righe che schifo guarda che roba come si vedono le righe che passano orizzontali hai perso contro il fratello hai perso contro Gara hai perso contro i due e ritirati che cazzo sai ti ho dovuto spammare l'ira di dio addosso quindi questo fratello è vero per questo ti sei messo qualcosa all'occhio no? il fratello è vero che vuole levato i coglioni è completamente schizzato boom baby yes vabbè Daydara è stato completamente scorciato in compenso ha fatto un'esplosione deflagrante migliore di quella dell'inizio dei concerti metal ma in tutto questo ciò non toglie che la tua sacrosante esplosione caro Daydara sia stata vista la sufficienza da un uccia quindi sti gran cazzi da un uccia non è un'esplosione ma non è un'esplosione Modello Stella in mezzo alla Boscaglia Abbiamo detto Chissà, magari c'è una festa Anche perché Capisci, farmi il tuo cadavere Sarebbe stato brutto No, in realtà mi pare che avesse evocato un serpente Per farsi avvolgere e proteggersi Uno dei alba Eccolo Eccolo A cosa dire? Sapete uno di quei sogni nostalgici dove segnava il mio caro fratellone che mi insegnava a utilizzare gli sciocari ma come... come al solito mi picchiava due dita in mezzo alla fronte buttandomi in un cestino della moglie Un altro se n'è andato si mi era scorciato quindi si lui che può trasportarsi da una dimensione all'altra ma dai simpatico come un dito al culo mi sa che sarei l'unico a piangere amico mio esatto ah si ah si è finito così oh dove era il corrente non mi è stata vera vabbè nuovo capitolo nuova corsa cambiamo abito sai come quell'altro si rigenerava non ci sono Grazie. Mamma mia, sempre, serio, sempre. Così scontroso. Mamma mia. Ah, ho le dita in mezzo congelate, in mezzo... Ah, comunque, salvataggio, bene, porci, termino, quale pizzo, spero che il video vi sia piaciuto, vi date sempre di share, like, commenti, sharing, tutto l'inca per il video, se non siete ancora iscriviti, iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto, ciao ciao!